La Chiesa, tradizionalmente, dedica il mese di ottobre alla missione. Quest'anno la celebrazione della giornata missionaria mondiale sarà domenica 22 ottobre e avrà come tema Cuori ardenti, piedi in cammino. La Diocesi di Acireale mette in atto diverse iniziative volte alla sensibilizzazione e alla preghiera per le missioni. Sarà a Valverde lo scenario della prima manifestazione organizzata dall'ufficio missionario della Diocesi, guidato dal direttore Don Orazio Sciacca. Mercoledì 11 ottobre, nella parrocchia Santuario Maria Santissima di Valverde, si terrà la presentazione della nuova pubblicazione del diario Obrigado Signor di Don Roberto Strano, un testo scritto in prima persona dallo stesso autore che racconta i giorni passati in Brasile. Viene dunque ripresentato questo diario, o come piace chiamarlo all'autore, appunti, a vent'anni esatti dalla sua prima esperienza missionaria nella terra delle favelas, vissuta dal 24 novembre al 6 dicembre 2003. Il diario racconta un'esperienza, un'esperienza che mi ha molto segnato e a cui ho fatto costante riferimento nei miei anni di sacerdozio, perché lì ho constatato la perenne giovinezza del Vangelo, ma anche l'estrema povertà e l'aiuto concreto da porgere alle persone. Quando pensiamo alle missioni, noi non dobbiamo mai entrare nell'ottica che stiamo facendo qualcosa per i più poveri, perché sono i più poveri che fanno qualcosa per noi, perché ci insegnano molto con il loro stile di vita, ma soprattutto con i loro atteggiamenti, i loro sorrisi, la loro gratitudine. Ecco, la missionarietà è una peculiare caratteristica della Chiesa, che tutti siamo chiamati a riscoprire, ad intra e ad extra, perché si è missionari nelle proprie comunità, si è missionari lasciando le proprie sicurezze e andando in quelle parti più poveri del mondo, dove la prima povertà è l'assenza del Vangelo che va portato ad ogni creatura.